Noi ci eravamo organizzati, infatti questa stamperia che funzionava al 100% l'abbiamo messa in via 4 novembre all'angolo del primo palazzo, cos'è il numero 3 mi sembra, uno, due, tre, il secondo portone. Allora la provincia all'angolo, opposto alla provincia, quel portone che c'è lì, al penultimo piano, l'appartamento era della farmacia Riccardi, si è andato lì, gli ho detto sai io ho bisogno di avere un appartamento, se ce l'ha affitta, ho saputo che... E mica gli ho detto cosa facevamo, dice ma sa, non vorrei affittarlo ma a me serve, ci ho detto sa ci serve, abbiamo una famiglia un po' numerosa e quindi vabbè, poche parole l'abbiamo affittato. E allora abbiamo in piazza lì e lavoravamo anche più tranquilli insomma, perché al primo piano tra le altre cose abitava una staffetta, era una professoressa che poi ha sposato Bavassano. E infatti quando noi facevamo questi documenti mandavamo i pacchi giù, al primo piano, lei prendeva i pacchi, usciva e consegnava le varie staffette che le portavano nelle sedi cittadine nostre, eppure le altre le mandavano su in montagna, capito? Per dire com'era l'organizzazione. E lì ci sono stati parecchioli. Ma quanti eravate a fare questo foglio? Dica? Quanti eravate? Ah, due. Io, due è un altro gym che lui scriveva, cioè Frumento, detto il Bia, te lo conosceva perché da giovane aveva la testa pelata, era anche lui di San Francesco, di Villa Piana. Sua madre aveva, si chiamava Gedda, aveva gli orti, dove c'è Piazza Bologna, erano tutti gli orti di Verdoliera, eccetera, sua mamma. E vabbè, allora lui scriveva e raccoglieva i documenti in giro perché in giro scrivevano, poi le farò vedere, tante cose scrivevamo noi, ma più che altro ce le mandavano anche da Milano o da Genova e noi riportavamo questi documenti che parlavano della democrazia, che parlavano dei fascisti che bisogna ammazzare, insomma, poi ne vede uno, poi se ne fa un'idea. Perché tra le altre cose il Pirla, cancella il Pirla, ma non fa niente, gli hanno portato via tutti, come si chiama, l'archivio. Noi avevamo l'archivio di tutto quello che abbiamo fatto da questo mio zio che questa volta abitava in via Paolo Boselli e sopra lì, cos'è, il caffè lì, di angolo, da Carlevarini, quel portone lì. Lui nella carboniera si era fatto una, che era macchinista in ferrovia, però lavorava alla servetà, era uno di quelli cacciati via dallo sciopero. E sotto c'era tutto l'archivio. Apro la parentesi qui. Perché a me non ho più di documenti? Perché io so che a Savona ce ne sono due che hanno tutti questi documenti. Vabbè, li ho già chiesti, fatemi almeno le fotocopie. Io non mi è rimasto quello che ho. Allora, questi archivi, quando noi abbiamo finito, li hanno voluti gli americani, li hanno voluti gli inglesi, ne avevamo parecchi, li ha voluti il Comitato di Liberazione Nazionale di Roma, li ha voluti il Partito Comunista di Roma, li ha voluti un altro partito, non solo partito, se è partito socialista o d'azione. Insomma, in quel momento li abbiamo distribuiti tutti, a me non è rimasto niente. Capito? E lì, in quel momento, insomma, è un momento un po' tragico, dai, fai, fai i breghi, non stavi a pensare, tante cose. E invece a me sono riuscito a ritracciarne i due e tre che li aveva ancora, e li aveva ritrovati lì all'Istituto Storico della Resistenza, da Scardaone. E noi abbiamo fatto questo lavoro qui. Ora, questi giornalini, come ho detto, andavano a tutte le parti, e non è. In più, ci eravamo messi a fare anche le barzellette. C'era un ragazzo che abitava in via, quella che di Amici si ha detto, il nome non me lo ricordo. E lui sapeva fare tutte quelle, infatti c'erano ancora uno su un giornaletto. E io dovevo, avevo, da mio zio mi erano fatto fare, una spilla che tagliasse bene il cliché. Perché se sbagliavo il cliché, basta fare un buco più grosso, appena messo in macchina, passava un giro, due o tre giri di macchina, con l'inchiostro bagnato così, spaccava tutto. E abbiamo fatto tutte queste barzellette, che probabilmente le abbiamo fatte tante, e le soppe le hanno incominciate ad arrapiccicare per la città. E le barzellette che prendevano in giro i tedeschi, prendevano in giro, insomma, in quello che ho io, c'è una di quelle. E insomma, in parte, insomma, le cose andavano giù di brutto, con queste cose. E rischiavamo, chiaramente. Non partiamo del rischio perché sennò... C'era la Todd, allora a noi servivano dei documenti per poter viaggiare di notte. E no, come fai? E se tu lavoravi nelle imprese che facevano il vallo, il cosiddetto vallo tirenico, con il cemento dove tutti quanti erano a lavorare, tu potevi andare di giorno e di notte perché lavoravano, di giorno e di notte, cioè, in più ti davano anche... ti pagavano. Allora io ho trovato l'impresario, abitava e via, e via le... ed era un amico, insomma, l'ho conosciuta in via Alessandra, si chiamava Cavassa. L'ho preso e gli ho detto, stami a sentire, tu lavori per la Todd, no? Eh sì, sai, con i tedeschi, vabbè, ma se tu, gli ho detto, se tu vuoi, alla fine della favola, e ci arriveremo, vuoi avere un po' un aiuto, tu mi devi dare tanti tesserini, tutti i nomi, mi devi dare anche i soldi, che tu, che corrispondono a questi, e sta all'occhio, perché, sai, se fai combini qualcosa, la prima cosa sei tu che vai via, eh? No, no, allora, ecco, noi daremo queste cose, ma non ne abbiamo mai ammazzato nessuno, le sape la maestra, c'erano solo i gap, erano posto i gap. Di fronte a noi, su quel piano, cosa si presenta? La San Marco, l'intelligenza della San Marco, per puro caso, la stafetta di sotto, la professoressa di sotto, ci ha avvisato, guardate che su, adesso arriva, arriva la San Marco, non ho saputo, perché questi qui andavano, venivano su, e noi eravamo piani così, Uno di fronte all'altro, a Sì, insomma, eravamo sotto le feste di Natale, mi sembra, di piena sera, portare giù, carretto, e portare via tutta la roba che avevamo, compreso il computer, nella mia storia, a portarlo via, l'abbiamo portato via, che poi l'abbiamo piazzato in una cantina, poi non ci sono più serviti, perché le cose, si sono, via via, aumentate, quindi si è arrivata la liberazione, ma noi ci siamo trovati così, con la, con la, no, avevano l'intelligenza, l'intelligenza sono quelle, come puoi dire, i servizi di informazioni militari, diciamo, i 007, per fare un'idea, di quello, cosa vuol dire, l'intelligenza, no? e quindi loro avevano un ufficio lì, e di lì dirigevano, puoi capire, noi di là, una parola, voglia dare profumi, per rompere, l'odore della, della cosa, noi avevamo la targhetta, c'era scritto, impresa Todd Cavassa, sulla porta, c'era scritto, impresa Edile Todd Cavassa, per cui questi qua erano tranquilli, questi sono della Todd, insomma, la situazione si è presentata, delle volte sono storie, sembra l'impossibile, delle volte quando penso, dico, ma ti pare che abbiamo fatto un affare di questo genere, eppure l'abbiamo fatto, e insomma, abbiamo portato via tutta la roba, cosa vuoi dire?